Ciao ragazzi siamo tornati qua in un nuovo video in compagnia del nostro caro amico It's Benzitos che molti di voi conoscono è la venticinquesima partita che proviamo a fare atterrando qua ma moriamo sempre bud ti darei una mano solo che non ho armi ho trovato adesso una mitraglietta ok vieni con me fatto AR verde uno fatto è morto bro è morto fatto c'è uno scagnozzo pezzo di merda di uno scagnozzo mi ha fatto lo scagnozzo mi tiri su pezzo di merda ah ma è un video cavolo è vero pezzo di fango ma adesso la prendo anch'io questa bende qua grazie allora andiamo subito ad aprire sotto dove sei dove sei dove sei dove sei ok 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 faccio così trasporta lo sto trasportando andiamo giù ce l'ho qui come cazzo si faceva ad andare giù ok 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 posso prendere quel pompa che non ce l'ho vai giù tu guarda se c'è ci sono se c'è qualcuno allora vedi devi farlo scannerizzare lì però stai attento stai più lontano perché poi c'è una mitragliata che dobbiamo distruggere no no riprendilo e va un po' più vicino no aspetta no ma com'è che faccio è morto è morto no vado a prendere la la scheda oh oh da chi è scagnozzo fra scagnozzo lo sta tirando su vieni su fuori lo sta tirando su oh cazzo aspetta sono bloccato arrivo 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 qua te lo fai easy l'ha tirato su però te li fai tutte e due easy anzi prima aspetta che ti piglio no uccidili uccidili bravo fatti l'altro non farti colpire non farti colpire ok portami giù oh no vabbè tirami su anche qua così ma ti sei e no non ti sei cambiato ancora no è dall'altra parte sono uscito dalla parte sbagliata guardo ti coglioni però adesso vado a cambiarmi fra no qua c'è gente vera però aspetta 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 eeeeee che cavolo occhio che ti esco da sopra Pompa, pompa, fra, pompa Vai, DR Vai, vai, fagli scannare tra di loro Ce ne sono arrivati altri, rebutami te E noi schiappiamo giù No, 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 occhio, occhio che ti spara Ok Vai, vai, rebutami tranquillo Mi riesci a lasciare un'arma, una Madonna Vai giù, vieni a sotto, vieni a sotto Vieni qua Prendo questa che non ce l'ho, niente Ma perché non mi fa spaccare? No, no, no Bro, qua a me non mi prende Non ti prende? Una l'ho spaccata Però non ho più colpi Ma perché queste puttane qua girano? Ma perché non mi prende qua? No, non mi prende qua Io non ho colpi Vabbè dai Un bel video divertente Ho sbagliato Dimmi che in quella casa ti prendi Là c'è gente bro Non avevo vita 30 munizioni avevo Ci beccan stasera Ciao ciao